buongiorno buongiorno oggi è mercoledì 17 ottobre la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento con la nostra informazione cielo variabilmente nuvoloso nelle prime ore della mattinata e poi spazio comunque al sole su gran parte della nostra regione temperature minime massime in linea con gli ultimi giorni questa mattina abbiamo con noi in regia massimo moro allora con il suo aiuto andiamo prima a vedere qual è la situazione alle 6 30 sull'alto piano del renon a poca distanza da bolzano vedete le nuvole all'orizzonte in transito e come detto poi ci saranno buone notizie la conferma arriva dalla grafica degli esperti meteo della provincia di bolzano innanzitutto 22 gradi nel capoluogo 19 gradi a silandro e merano e brunico e vipite in 91 gradi a bressanone andiamo in provincia di trento 22 gradi a trento città così come anche a riva del garda 21 gradi ad ala 18 a pinzolo e amale 17 a cavalese 19 gradi a fiera di primiero ben 22 gradi a borgo val sugana come sempre andiamo a vedere anche quali sono le aperture dei quotidiani a livello locale iniziamo con i quotidiani alto tesini il corriere dell'alto adige il coprifuoco dopo le 23 tavolini esterni nel mirino le nuove i nuovi progetti del vice sindaco baur il tram parte 120 milioni 17 fermate questa è proprio la notizia di apertura del quotidiano alto adige c'è l'ok della provincia intanto nasce l'asse dei sindaci per limitare i pendolari e in tema di tram il tragitto partirà da ponte adige arriverà fino alla stazione passando percorso libertà e l'ospedale andiamo alla cronaca dalla vicina provincia di trento con l'adige industria utile da record fatturato a più 9 per cento con meccanica e agroalimentare il trentino il raddoppio dei pensionamenti con quota 100 boom di lavoratori a riposo in trentino e poi nuoto la 24 ore della solidarietà torna a trento la staffetta torniamo in provincia di bolzano invece con il quotidiano in lingua tresca dolomita ci si occupa di inserimento nel mondo del lavoro per i diversamente abili un chiaro e preciso impegno da parte della provincia di bolzano partita al cardiopalma per l'hockey club bolzano in champions league sotto di quattro gol ha rimontato e poi è riuscita a vincere va avanti nella sua stupenda avventura il quotidiano tag est zaitung il tema di apertura e l'approfondimento a pagina 9 quello della povertà in provincia di bolzano quali sono i casi più eclatanti quali sono le contromisure quali sono anche gli strumenti oggi è mercoledì troviamo un inserto dedicato al mondo dell'economia per il quotidiano dolomiten ci si occupa dei cosiddetti assistenti vocali uno su tutti è il famoso alexa ci sono anche ovviamente altri modelli cosa potrebbe cambiare anche nel mondo del turismo grazie a queste nuove tecnologie il corriere della sera manovra l'europa a verte l'italia taglio dei vitalizi al senato il governo dice basta numero chiuso a medicina poi la retromarcia la notizia ha fatto il giro del mondo la scritta al carboncino che sposta la fine di pompei l'eruzione non sarebbe avvenuta ad agosto ma verso la fine del mese di ottobre il solo 24 ore manovra sforbiciata ad industria 4.0 la pressione fiscale non scende conto salato per banche imprese e poi con quasi 15 miliardi e mezzo aggiuntivi raddoppiato il fondo infrastrutture per il periodo che va dal 2019 al 2021 è tutto in chiusura come sempre vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere in provincia di bolzano prosegue fiera hotel fino al 18 cioè fino a domani nel quartiere di fiera bolzano oggi il sutirol affronta la tristina per il campionato di calcio e fino al 4 di novembre le settimane della castagna a velturno è veramente tutto vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33